Buonasera, sono Massimiliano Brandi e sono il proprietario del ristorante Parade Italia. Parade Italia è un ristorante italiano che abbiamo aperto già 5 anni e facciamo fondamentalmente risetta artesanale italiana, pizza e pasta. Una pizza elaborata con una elaborazione artesanale, lleva una doble fermentazione con más di 72 ore di lievitazione, la pasta tiene una elaborazione artesanale, sta hecha in casa con tutti i ingredienti naturali, senza nessun tipo di additivo e tutto considerato come si fa in casa in Italia. Nel mismo modo, abbiamo traito un trozzo di Italia dentro Valencia. Abbiamo molto attenzione al tema che è del vegetariano e del vegano. In nostra carta abbiamo molti plati per soddisfare qualche tipo di paladar e di esigenza. Abbiamo anche alcuni plati senza glutensi per chi è intolerante al glutensi. Cosa settimana abbiamo nostri servitori che ci entrega in dettaglio tutti i prodotti che abbiamo. Abbiamo anche il vino e la cerveza, sono tutti vinos e cerveza italiana. E' a fare in modo che chi viene qui a disfrutar di la comida, va a fare un viaggio gastronomico in Italia, perché l'Italia è un paese, è una nazione molto estesa con diversi tipi di comida. E qui ci proponiamo un po' di ogni regione dell'Italia. Oggi invitiamo a tutti a disfrutar di questa esperienza nella famiglia di Parada Italia. Ci siamo ubicati in Calle Sirivella numero 26 in Mislata, in provincia di Valencia. Grazie a tutti.